Siamo nella zona dell'ex aeroporto a Fano, siamo qui perché alcune segnalazioni ci hanno detto che c'erano dei pacchi, dei sacchetti contenenti del cibo. Siamo qui per testimoniarvi che per l'ennesima volta, come era successo in quel cassonetto che vi avevamo mostrato qualche tempo fa, anche qui sono stati lasciati, abbandonati, riversati cibi provenienti dagli aiuti della comunità economica europea che sono ancora buoni. Tutti quanti con scadenze 2017-2018. Siamo all'ennesimo spreco, sono una decina i sacchi abbandonati qui sotto che sono pieni, stracolmi di genere alimentare. Pasta, riso, legumi vari e cereali di ogni generi, tutto ancora perfettamente commestibile. Come ci siano arrivati e soprattutto chi ce li ha portati, come per il caso del cassonetto, resta un mistero. Ed inoltre, perché disfarsi di cibo ancora commestibile? Se chi lo aveva in disponibilità non lo voleva utilizzare, non era più logico e più moralmente corretto ridarlo indietro o a chi invece ha figli e una famiglia da sfamare? Perché buttare dei generi alimentari di prima necessità ancora commestibili? Quale schiaffo alla povertà e alla carità rappresenta tutto ciò? Rimane un mistero.